C'è un vino ad hoc per iniziare i festeggiamenti per i 150 anni dell'Unità d'Italia e Salemi 1860. Sì, bravo. L'ho provato a dire prima al Presidente della Repubblica che ha messo in piedi l'idea insieme a Riello, Presidente di Vinita, di un concorso per una bottiglia del 150esimo. Noi ce l'abbiamo già, ma la nostra cade nel 2010. Quella che faranno qua cade nel 2011, quindi sarà... Come è nata questa idea? Ma l'hanno avuta alcuni produttori di Salemi, mi è sembrata un'idea anche perché la bella etichetta riprende il decreto con cui Crispi nomina Garibaldi, dittatore, e da lì comincia la sua impresa di unificazione dell'Italia. Quindi il vino ha quel significato, si chiama 1860, è una buona idea e spero che quella etichetta prevalga anche nel concorso con le altre.